La situazione delle elezioni statunitensi pare ancora ampiamente in bilico e lungi dal risolversi in un modo o nell'altro. Sembrava prima che Biden stesse risalendo con forza. Dopo apparve evidente che era Trump a guadagnare terreno. Ebbene oggi 5 di novembre 2020 siamo ancora ben lungi dal decidere chi abbia vinto. Quel che è certo è che in questo momento, ripeto oggi 5 novembre 2020, Biden sembra essere in testa. 264 contro i 214 di Trump. In sostanza la situazione si è ancora una volta ribaltata. Ovviamente i giornali di ispirazione cosmopolita, liberista e globalista giubilano all'idea della vittoria di Biden. Leggo per inciso il rotocalco turbomondialista della Repubblica, voce del padronato cosmopolitico, che titola in questo momento Biden ha un passo dalla vittoria. Trump denuncia Brogli. Ma non soltanto, si legge anche sempre su Repubblica un titolo che è veramente rivelativo. Finanza, Biden recupera e i mercati festeggiano. Ecco, Biden recupera e i mercati festeggiano. Giusto per chiarire il posizionamento dei mercati in questo agone tra Trump e Biden. Ne vedremo ancora delle belle, credo, ma ad oggi sembra che la situazione sia più favorevole a Biden che a Trump. Ma potrebbero esserci ancora delle inattese ribalte di cui daremo conto sempre in questo nostro canale. Intanto assistiamo a questa lotta fino all'ultimo momento tra i due protagonisti.